ogni giorno io trascorrevo in tram almeno un'ora e mezzo bene chi non sa può forse credere che viaggiando su quel mezzo pubblico 45 ore ogni mese in capo all'anno uno debba avere fatto centinaia di conoscenze decine di amicizie per esempio quelli che per ragioni di lavoro prendono ogni giorno l'accelerato fra follonica il paese mio li vedrete salutare dal finestrino casellanti e capistazione preoccuparsi se aggiunge un carico non sale come ogni mattina il marracini e poi domandare perché come sta ai conoscenti il conduttore nemmeno chiede più il biglietto casomai si ferma un momento ti si siede accanto accetta una sigaretta si informa se andrai anche tu a ballare a braccagni il sabato molti si sono sistemati così incontrando sull'accelerato la futura sposa per esempio mio zio walter che lavora nelle ferrovie e che potendo si risposerebbe anche perché di belle ragazze in treno se ne incontrano parecchie e non è difficile attaccare qui no ogni mattina la gita in tram è un viaggio in compagnia di estranei che non si parlano anzi di nemici che si odiano è difficile riconoscere una faccia anche se fai tutti i giorni per anni la solita linea questo anche perché si somigliano tutti i passeggeri del tram ci sono tre tipi fondamentali di faccia la faccia del ragioniere in camicia bianca con gli occhi stanchi di sonno già alle 8 del mattino talvolta i baffetti sempre due solchi profondi che partono da sotto le occhiaie bluastre e arrivano agli angoli della bocca poi c'è la faccia disfatta della casalinga che va al mercato lontano perché si risparmia un po di danè e nonostante l'ingombro della sporta piena è sempre la prima a salire e infine c'è la dattilografetta con le gambette secche che ha una faccia smunta stirata a lacre color della terra color del verme peloso che striscia sulle foglie dei platani non si vede altro certe magnifiche ragazze le incontri soltanto dopo le 5 del pomeriggio a piedi nelle vie del centro hanno le gambe lunghe tornite un incarnato di porcellana il sedere alto e tondo superbo ti chiedi come facciano a ritornare a casa perché sul tram non le incontri mai ma forse hanno qualcuno che le raccompagna in macchina e così fanno una vita sempre divergente dalla tua